ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video secondo video di quello che riguarda il progetto sugli elementi il potere degli elementi e oggi vi vado a parlare del secondo elemento nella classifica che avevamo detto acquaria terra fuoco quindi oggi andiamo a parlare dell'elemento dell'aria l'elemento dell'aria è l'elemento che internazionalmente viene contraddistinto dal triangolino che si eleva dal basso verso l'alto con la stanghetta in mezzo cosa simboleggia questo cosa simboleggia questo simbolo questo simbolo va a simboleggiare l'elevazione della dell'aria l'aria si eleva dal basso l'acqua verso l'alto verso i cieli grazie alla forza della logica e grazie alla forza della ragione l'aria si eleva dal basso verso l'alto dall'acqua verso i cieli il fatto che ci sia la stanghetta va a simboleggiare il fatto che sta a metà fra cielo e terra non nel senso che c'è la terra c'è il gelo e c'è l'aria ma nel senso che fluttua indiscriminatamente fra questi due piani diciamo ok fra il piano di sotto il piano di sopra e l'aria fluttua è lì e dappertutto e sia sul piano di sotto e sia nel piano sopra ed è in mezzo e collega questi due ok detto proprio vale vale dunque l'elemento dell'aria è un elemento che è principalmente considerato un elemento maschile ma farmi tutti perché non è l'elemento maschile l'aria è un elemento che al 70 per cento è maschile ma riconosce di venire fuori dalla femminilità l'acqua di elevarsi dalla femminilità dall'acqua quindi sa di essere entrambe in realtà un elemento che potremmo definire ermafrodita un po come la terra cioè c'è sia la parte maschile che la parte femminile poi nell'aria primeggia la parte maschile ok la parte maschile è più forte la parte logica la parte razionale scientifica comunicatori eccetera eccetera ma c'è anche una parte femminile nell'aria la parte creativa la parte artistica che è tipica femminile ok quindi l'aria è al 70 per cento è maschile ed è riconosciuto come un elemento maschile ma c'è anche una parte femminile con cui lavorare relativa all'aria e lo vedremo poi anche con la terra anche la terra queste due cose qua infatti se notate nella scala acquaria terra fuoco si passa da l'acqua super femminile l'aria più maschile che femminile la terra più femminile che maschile e poi si va verso il maschile assoluto che è il fuoco ok quindi è un elemento che porta appunto creatività logica razionalità giustizia viaggi comunicazione quindi queste due cose che sono appunto da un lato maschili logica scienza comunicazione viaggi razionalità i processi mentali la giustizia tutte cose super maschili e qualcosa di femminile sono la creatività l'arte che lavorare con gli elementi lavorare con gli spiriti scusate e le entità tutte legate all'elemento dell'aria non è semplice è più facile rispetto a quelle dell'acqua perché tutti gli spiriti e le divinità legate all'aria sono prendono la caratteristica dell'aria di essere razionali e logici ci puoi parlare con gli elementi con gli elementari dell'aria con gli spiriti dell'aria con gli dei dell'aria ci puoi parlare stiamo parlando di divinità come hermes e mercurio per esempio da appunto legate insomma universalmente riconosciute come comunicatrici stiamo parlando di spiriti come le silfidi ok non per questo più approcciabile nel senso che comunque la loro spiccata intelligenza porta anche a fare dei giochetti sono abbastanza manipolatrici le entità legate all'elemento dell'aria sono abbastanza manipolatrici se state in quel posto riescono a manipolarvi abbastanza bene da riuscire a mandarvi fuori strada quindi fate attenzione perché comunque sono furbi ok e furbizie anche la loro non vanno sottovalutati assolutamente però è più facile ragionarci ecco diciamo così tuttavia tenete conto che l'aria è un elemento è l'elemento degli elementi no è l'elemento più veloce di tutti e quattro pensate all'elemento dell'aria come alle brezze il momento prima c'è un po di venticello in un momento dopo non c'è niente poi arriva quella specie di uragano poi finisce in un odotto e voi restate lì ah ok quindi lavorare con l'elemento dell'aria e l'entità dell'aria non è facile perché cioè è più facile rispetto a quelli dell'acqua perché ripeto ci potete ragionare però sono veloci molto veloci se dovete riuscire a stargli al passo non ci sono le grandi invocazioni non ci sono i grandi rituali no più spicci stringenti stringi 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 che perché soprattutto lavorare se lavorate all'aperto con i venti con le brezze e le correnti d'aria tanti auguri perché non avete neanche iniziato la comunità la comunicazione con l'entità che quindi a parte questo l'unica cosa appunto è la velocità per il resto sono spiriti razionali logici mi raccomando un po anche manipolatori e ci godono anche ad essere manipolatori fate attenzione tutti gli spiriti dell'aria tutte le divinità dell'aria sono legate a questa e dei cieli di conseguenza perché sotto divinità e spiriti dell'aria ricadono anche tutte le divinità e gli spiriti dei cieli ok quindi sì stiamo parlando anche per esempio di Zeus di Lilith di Giove che sono tutti i padri dei cieli ok tutti quei dei Shu eccetera eccetera stiamo parlando di rientrano quelle del cielo rientrano sotto la giurisdizione dell'aria parlando delle forme dell'acqua sorpresa sorpresona le forme dell'acqua sono i venti che arrivano dalle singole le forme dell'acqua detto sì le forme dell'aria sono quelli che arrivano dalle singole direzioni e quindi abbiamo il vento del nord del sud dell'est dell'ovest del nord est del nord ovest e sud est di sud ovest e quindi abbiamo allora il vento di levante il vento di levante è il vento della primavera e favorisce tutti i nuovi inizi tutto quello che è nuovo e che inizia nuovo quindi traslochi novità di lavoro nuove relazioni bla 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 poi abbiamo il vento di ponente il vento dell'autunno il vento di comunicazione con i defunti di comunicazione con gli altri mondi con comunicazione con l'entità di quello che è la calma rilassamento e la pace tramontana il vento dell'inverno tutto quello che è morte distruzione magia oscura letteralmente il vento del mezzogiorno il vento dell'estate della passione del sesso dell'amore delle relazioni in generale il vento del grecale il lavoro con gli opposti dare ricevere luce ombra maschile femminile il maestrale il vento che gestisce e vi aiuta a gestire le emozioni molto utile nello shadow work con le emozioni il libeccio tutto quello che riguarda il percorso spirituale e il lo scirocco tutto quello che riguarda i nuovi sentimenti le nuove relazioni novità in campo sentimentale detto proprio macroscopicamente queste sono le varie forme dell'aria a queste si aggiunge in teoria il fumo perché so già che pensate all'incenso come strumento dell'aria quindi a queste in teoria si aggiunge il fumo però il fumo ha tutta una serie di caratteristiche molto specifiche molto un po' più difficile da capire diciamo che le direzioni in cui vira il fumo o che potete far virare il fumo sono le stesse dei venti ok quindi se volete potenziare la passione e sesso voi vi mettete a sud e spronate il fumo dell'incenso da sud verso nord o comunque verso dalle altre parti ma il fumo ha poi tutta una serie anche di interpretazioni del movimento delle spirali eccetera eccetera che in questo caso non vado ad approfondire perché non è questa la sede però appunto solo per dirvi che si potete usarlo come i venti come le direzioni dei venti quindi vi mettete in un certo punto e sprigionate il fumo da dove deve arrivare come se fosse un vento oppure lo soffiate come se fosse il vento dalla direzione che vi interessa però c'è tutta un'altra parte legata alla magia del fumo che è tutta quella legata a cose che non sono tipiche dell'elemento dell'aria ok quindi che sono appunto per esempio la purificazione, la combustione, la magia del fuoco messa insieme a quella della magia della terra che dà in sua volta la magia dell'aria e bla 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 ok quindi va bene usarla come se fossi i venti ma nì e bom detto questo io vi lascio alle corrispondenze per quello che riguarda l'elemento dell'aria e noi ci vediamo dopo per parlare degli strumenti che potete usare per lavorare con questo elemento corrispondenze dell'elemento aria stagione primavera direzione est pianeta Nettuno momento della giornata alba colori giallo e azzurro metalli alluminio stagno rame latta pietre e cristalli avventurina pietra mica pietra pomice meteorite topazio animali tutti gli uccelli e gli insetti volanti ragno alberi pontano betulla erbe fiori e profumi talassaco prezzemolo agrifoglio vischio lavanda aneto segni zodiacali bilancia gemelli acquario non ci sono tantissimi simissimi simissimi strumenti per poter lavorare con l'aria lavorare con l'aria vi presuppone più che altro una forza mentale non soltanto gli strumenti quanto il vostro gioco mentale con l'elemento dell'aria mi spiego lavorare con l'elemento dell'aria con gli strumenti è inutile a parte questi tre strumenti che adesso vi vado a dire per il resto è completamente inutile perché l'aria non è materiale e quindi quasi nessuno strumento la può andare a toccare anche energeticamente parlando anche perché ripeto poi talmente veloce che non avete neanche il tempo di prendere lo strumento in mano che ciaone ok quindi il gioco in realtà lo strumento principale per lavorare con l'elemento dell'aria è la vostra mente il vostro potere mentale ok per riuscire a parlarci e ragionarci perché ripeto l'aria è logica razionalità eccetera eccetera quindi per riuscire a fare questo altrimenti se avete bisogno di strumenti essenzialmente sono tre gli strumenti dell'aria la bacchetta, l'incenso, le penne e le piume le penne e le piume sono insieme quindi le considero due insieme allora la bacchetta la bacchetta è l'unico ripeto l'unico strumento di controllo dell'elemento dell'aria come gli anelli sono l'unico strumento di controllo dell'elemento dell'acqua la bacchetta è l'unico strumento di controllo dell'elemento dell'aria perché? perché è il prolungamento del braccio del praticante e quindi è il prolungamento della volontà mentale del praticante e quindi vi può aiutare a dirigere l'energia e a controllare leggermente l'aria non datissimo ma vi può dare una mano soprattutto quando voi volete manifestare qualcosa tramite il vostro potere mentale se voi sfruttate l'aria e la bacchetta insieme riuscite a avere la manifestazione di quello che avete in testa poi l'incenso l'incenso principalmente che dicevamo già prima però vi serve principalmente per quello che riguarda la capacità di purificazione dell'elemento dell'aria ed è anche una proprietà del fumo la magia della purificazione quindi quando si tratta di portare via qualcosa tramite l'incenso ma anche tramite le brezze dell'aria meglio ancora se per esempio bruciate un'erba fuori all'aperto e quindi non solo bruciate l'erba ma fate anche sì che il vento porti via quello che l'erba purifica viene portato via dal vento ma anche per tutto quello che riguarda la meditazione le varie riflessioni relative all'elemento dell'aria le riflessioni, elaborare i problemi, elaborare i propri pensieri sono tutte tipiche legate all'aria perché l'aria è razionalità, logicità quindi per esempio l'analisi di un problema trovare la soluzione a un problema scervellarsi per capire come è andato così tutti i lavori mentali, tutti i processi mentali sono tutti legati all'elemento dell'aria e l'incenso vi può dare una mano per promuovere questi processi mentali essenzialmente questo e poi le penne e le piume allora penne e piume che stiamo parlando naturalmente di quelle degli uccelli che possono essere sia vere che sintetiche allora le penne e piume sintetiche vi possono dare una mano per quello che riguarda la purificazione e l'ispirazione principalmente e vi possono aiutare a non dico governare le brezze ma più o meno se invece si tratta non siete schizzinosi e si tratta di penne e piume vere di uccelli veri di resti animali stiamo parlando di penne e di piume uccelli veri trovati naturalmente dovete fare attenzione anche all'animale a cui appartenevano perché le penne di poiana non fanno quello che fanno al pene di corvo ok quindi se volete sfruttarle solo per chi sono penne e piume e quindi appartenenti ex appartenenti a creature dell'elemento dell'aria potete sfruttarle per purificazione e ispirazione ma anche per provare a governare un po' le correnti d'aria se invece le usate per l'animale che le aveva quindi sono penne di corvo non sono penne qualsiasi sono penne di corvo oppure non sono penne qualsiasi sono penne di aquila allora dovete anche tenere bene a mente quello che fa l'animale in quel caso la simbologia dell'animale si ripercuote sulla penna o sulla piuma ma di solito sono penne che a loro volta si ripercuote sul vostro lavoro con l'elemento dell'aria quindi qui c'è da fare questo ragionamento in più ok detto questo finisce qui questo video sull'elemento dell'aria e noi ci vediamo al prossimo video per il terzo video che sarà relativo all'elemento della terra fatemi sapere qua sotto se voi lavorate con l'elemento dell'aria con quali entità magari con l'elemento dell'aria con quali divinità relative all'aria e c'è se ci lavorate naturalmente io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao